L'ultimo tavolo al Mise disertato dall'azienda, la mancata comunicazione del piano industriale per i prossimi anni e le voci su un possibile abbandono dell'Europa che si rincorrono da mesi. Sono tanti motivi di preoccupazione per i lavoratori della Whirlpool di Cassinetta, una situazione che la RSU dello stabilimento ha portato all'attenzione dei rappresentanti del territorio in un incontro con i sindaci di Biandronno e Ternate in vista di possibili novità da parte della multinazionale. Siamo molto contenti di questo interesse da parte delle istituzioni e dai sindaci del territorio. C'è fortissima preoccupazione per questo annuncio che dovrebbe arrivare il 21 sulle intenzioni di Whirlpool per l'Europa e per l'Italia e quindi la RSU di Cassinetta in rappresentanza di tutti i lavoratori è preoccupatissima per quello che potrebbe accadere. Quindi cerchiamo di alzare l'attenzione sulle istituzioni. Il sindaco di Biandronno, Porotti, ha portato ai lavoratori la solidarietà del ministro Giancarlo Giorgetti e ha invitato all'incontro anche il consigliere regionale Marco Colombo. I due comuni hanno sottolineato la loro vicinanza ai 2.500 dipendenti di Whirlpool e ai quasi altrettanti lavoratori dell'indotto. Dobbiamo tutelare i lavoratori. L'azienda Whirlpool è un'azienda sul nostro territorio che è un bene per tutta la provincia di Varese, per tutta la Lombardia e per altre regioni d'Italia, quindi dobbiamo fare di tutto per tutelare. Le istituzioni ci sono, ci sono sempre state, magari non apparivano, ma ci sono sempre state, noi siamo sempre stati vicini. All'incontro di oggi seguirà un'altra iniziativa di mobilitazione dopo le manifestazioni dei mesi scorsi legate alla chiusura del sito di Napoli. Venerdì 14 ottobre alle 19 una fiaccolata prenderà il via dallo stabilimento di Cassinetta per raggiungere il municipio di Biandronno.